Sul parco scenico del piccolo teatro Donna Fugata di Ragusa Ible è stata la musica, stavolta a farla da padrona. Il concerto di primavera giovedì sera ha portato in terribile alla grande musica, quella che emoziona e lascia il segno nel ricordo di chi c'era. Una serata suggestiva tra le note barocche delle quattro stagioni di Antonio Mivaldi e il nuovo tango, con influenze e geste di Astor Piazzola. Serata magica per il pubblico e appassionatamente condotta da musicisti di estrema bravura, a partire dal maestro concertista Francesco Manara, violinista di fama internazionale. Un dialogo in musica fra 700 e 900, fra due compositori separati nel tempo da due secoli e mezzo. Eppure nati entrambi in città di mare, a circa 11.000 km di distanza, anche gli emisferi in cui si trovano sono diversi, quando a Venezia è estate, a Buenos Aires è inverno e viceversa. Tuttavia il ciclo delle stagioni è sempre lo stesso, primavera, estate, alcuno inverno, il nuovo primavera. A questo movimento circolare si rifà l'esecuzione proposta dalla spalla dell'orchestra del Teatro della Scala Francesco Manara, nel suo ruolo come maestro concertatore, violino solista, nonché docente dell'orchestra d'archi dell'Accademia Teatro alla Scala, complesso nato all'interno del corso di perfezionamento per professori d'orchestra che ha accalcato il palco del piccolo teatro barocco. Le quattro stagioni di Vivaldi furono pubblicate nel 1725 nella raccolta Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione, quattro concerti per il violino, che si collocano sicuramente fra i brani più noti nella storia della musica, concerti nei quali viene rappresentata la natura sia nella dolcezza della visione arcadica sia negli aspetti più inquietanti ed ostili. La squadro estrazione Pontenas, scritte dal 1964 al 1970, originariamente composte da Piazzola per il quartetto, rappresentano un omaggio e una rielaborazione dei temi vivaldiani. L'oggetto Pontenas si riferisce al porto di Buenos Aires, luogo nel quale ebbe le sue origini il tango e di tango è impregnata anche la musica di Piazzola, arricchita dalle menti di musica colta europea e da ritmi jazz, un'occasione di grande spettacolo, una proposta culturale colta dal teatro a zona fugata per dimostrare, se ancora ce ne fosse bisogno, la propria vocazione appunto di riferimento sul territorio per una cultura di respiro internazionale.